Lui mi ha fatto venire la pelle d'oca, vi ha fatto piangere questa notte direttamente dalla trasmissione All Together Now, il vincitore per me in assoluto, Mr. Echini! Buonasera a tutti! Oh, mezzo e mezzo e mezzo al mondo Ragazzi, questo è un grandissimo applauso a tutti voi di stasera! Eccoci qua, ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video e back to another video, siamo con il video Bricutnia e adesso noi, dove siamo adesso? Siamo a? Aereoporto, a Milano, Malpenza e dove andiamo? Stiamo andando a un evento di Echini! Eh sì! Perché oggi... Mai che mi porti in vacanza! Sempre lavoro! Lavoro e vacanza è uguale! Sempre in giro! No dai, almeno stiamo insieme ogni tanto! Esatto! Allora, stasera io ho un concerto a Salerno, provincia di Salerno, dove è? Provincia di Salerno! Il Castello di San Giorgio! Sì, però adesso dobbiamo andare a Napoli e a Napoli devo prendere la macchina da qualcuno! Ci aspettano! Ci aspettano di prenderci a posto! Quindi, niente... Adesso è anche la prima volta che andiamo... Prendevo... Gente, 23 settimane! 20... Quasi 20... 23! No, siamo ancora da 21... Cioè 22! 22 settimana 5 mesi! 5 mesi! Cioè vedere ora! la prima volta che ero in una stessa e ora è stato testo e non è stato testo molto bene, non puoi e non sono due vuole certo, certo bene dai, non vedo loro però se stiamo a salerno non puoi sengupare in quanto? non, poi domani e poi torneremo a Milano di nuovo. Let's get the gig! Tu sei carico? Sì, sono pronto. Sono carico, sono pronto. La voce com'è? Bene! Spero che stasera abbiamo un bel concerto. Che non sia troppo caldo. Sì. Che è un bello l'ora. E che tutti si divertano. Sì. Lo vedo di vedere i miei fans. Per esempio. Ci vediamo in Salerno. Boarding! Stavo cuti bene qua. Aspettiamo un pochino. Sì. 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 Non ho nemo più tempo. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Benissimo. Grazie a tutti. Eccoci. Grazie a tutti. Grazie. Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno. Grazie a tutti. Amore. Grazie a tutti. 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 e io sono. per la pasta. Grazie a tutti. tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 . a tutti. a tutti. . . a tutti. . 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